cicloturisti e cicloturisti benvenuti oppure ben ritrovati negli studi bike channel siamo qua su unconventional travelers il luogo dove intervistiamo e conosciamo i viaggiatori non convenzionali e oggi abbiamo due abbiamo domenico e pietro ciao ragazzi ciao 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 a tutti e voi siete venuti da lontano insomma non voglio dire troppo anzi dite voi chi siete che cosa fate nella vita e poi entriamo nel dettaglio sul vostro viaggio non convenzionale insomma siamo venuti da lontano siamo abbastanza lontano perché siamo entrambi siciliani e giusto per fare un viaggio non convenzionale abbiamo pensato di partire in bicicletta rigorosamente altrimenti non eravamo qui in bicicletta da lampedusa per raggiungere capo nord dal punto più estremo della nostra europa partiamo col botto fino al punto più a nord della nostra europa e tra l'altro saranno quanti chilometri circa e siamo sugli 8 mila chilometri che cercheremo di percorrere una robetta si va bene una quarantina di giorni è 40 giorni questo poi entriamo bene nel dettaglio perché sono molto pochi vi siete organizzati in modo molto particolare avete pianificato questa avventura ma voi avete un background da ciclisti usate la bici molto spesso giusto sì noi usiamo la bici molto spesso anche per andare a lavorare cerchiamo di usare la bici come mezzo di movimento come anziché usare la macchina o il motorino ottimo è il famoso bike to work giusto il famoso bike to work che ultimamente sta sta avendo qualche qualche stimatore in più siamo molti siamo molti siamo ancora pochi però già già tantissime persone usano la bicicletta solamente per andare a lavorare cercano di levare l'utilizzo della macchina quando si può così cercano di aiutare anche l'ambiente ok quindi è non solo un vezzo diciamo così anche un modo modo di vivere la vostra vita quindi la bici è non solo sport ma è anche fa parte della vostra vita insomma della quotidianità ma pietro la bici è libertà la bici è sicuramente l'idea che tutti noi abbiamo avuto da bambini la bici ha rappresentato la prima conquista tutti noi ci ricordiamo quando i nostri genitori i nostri fratelli maggiori hanno levato le rotelle dalla bici per noi sembrava essere arrivati sulla luna per cui la bici se tu la prendi come come esempio come esempio di vita di libertà di fare ciò che vuoi di andare di andare la bici di permettere di andare dove vuoi quando vuoi con chi vuoi e come vuoi puoi andarci veloce puoi andare lento per cui cosa c'è più di più di più bello di utilizzare la bici sempre è un mezzo per fare cose fondamentalmente di tutto dal viaggio ad andare a lavoro a vivere a fare gare no non c'è se poi noi andiamo ad analizzare non c'è lo stereotipo del ciclista perfetto c'è chi gli piace anche nelle uscite che noi tutti facciamo a livello a livello settimanale c'è quello lì che è attratto dalla velocità dai watt dai comma c'è quello che se lo prende lento si ferma si fa una birra io sono più per la seconda ma credo anche voi ma credo anche voi colpevole ci fermiamo ci beviamo la birra ci mangiamo il panino e ce la si gode insomma ma la bici è un mezzo appunto per fare tantissime cose ma perché scegliere invece la bici come mezzo per viaggiare cioè nel senso c'è l'aereo c'è la macchina c'è la moto si può andare a piedi la barca perché proprio la bici voglio parlare di di clima perché crediamo che nel fattore clima noi siamo molto molto indietro e quindi dobbiamo dobbiamo dare un attenzione un colpetto per far capire che comunque se si riesce andare in bici di più e si aiuta il nostro clima quindi il nostro viaggio è un viaggio tra virgolette per dimostrare che con la bici si possono fare tantissime cose il nostro viaggio il nostro viaggio è nato è nato sicuramente principalmente con l'idea di voler fare un viaggio non convenzionale un viaggio alternativo un viaggio che poi via via nella pianificazione del viaggio ha raggiunto altri obiettivi tra le altre cose ci pregiamo siamo onorati di avere il patrocino di lega ambiente a livello a livello di attenzione del clima il viaggio appunto sia bici per il clima bike for climate tutta la manifestazione anche perché l'idea nostra oltre quella di unire tutta europa è quello di sensibilizzare la grande le persone sul fatto che se due persone non più giovanissime si prendono la bicicletta per arrivare da lampedusa a caponorda la mamma può sicuramente uscire per andare a comprare il pane in bicicletta questo infatti è un altro discorso nel senso che appunto il viaggio non lo fa sono sbarbato lo fa anche una persona con più di 50 anni perché non so adesso diamoci un attimo di tempo provate a indovinare nel frattempo che state guardando video quanti anni hanno pietro e domenico però appunto nel frattempo che voi indovinate parliamo dell'età cioè nel senso si possono fare queste cose qua nel senso sarà tosta perché comunque non sarà una passeggiata però come diceva domenico se lo fate voi insomma chiunque può farlo sicuramente sino parte l'età si sarà molto dura ma questo diciamo che bisogna partire anche con il cervello giusto perché uno può avere pure 80 anni però se ha la memoria linda e riesce a fare strada ok tranquillamente non serve a essere diciottenni o sbarbatini come come dicevi tu per per fare tanta strada e insomma il rapporto che tu hai con la tua bicicletta deve essere come un non so con una fidanzata una moglie come un fratello per per capire che cosa si può fare con la bici ok quindi è veramente un mezzo straordinario per fare tantissime cose sì pietro la bici ti risolve tanti problemi ti risolve tanti problemi te ne crea pochissimi e te ne risolve tantissimi ti risolve anche un problema mentale ti risolve un risolve il problema dell'autostima che molti non hanno cioè io sfido tu sei un grande viaggiatore quale soddisfazione hai provato a scalare il passo della cisa con lo scatto fisso avrai faticato tantissimo però quando tu arrivi a raggiungere quell'obiettivo raggiungi un'autostima che nessuno mai ti darà tu ricorderai il primo viaggio ricorderai il viaggio poi se uno ci riflette del viaggio tante volte ci si ricorda dei momenti difficili momenti difficili che hai superato perché hai la soddisfazione di aver superato se fai una giornata di pedalata tranquilla si è visto il bel panorama tu però se fai una giornata in cui hai forato tre volte ti si è rotta la catena dovuto fare cioè quella però ricorderai ancora con più piacere perché hai superato quei problemi ma quindi voi vi ricordate ancora il vostro primo viaggio beh sì sì certamente viaggetto non è lungo come quello di domenico ma una cosa un po perché dopo parliamo anche di quello ma insomma avete iniziato a pedalare come avete sentito c'è della saggezza potete rivelare adesso quanti anni avete prego in due superiamo il secolo in due superiore nel secolo io ne ho cinquantadue io ho cinquantotto cioè quindi insomma si può fare ragazzi secondo me appunto non avete ancora fatto il viaggio però avete già viaggiato e si può abbiamo viaggiato ma qui qui io anzi lancio una provocazione tante volte l'età rappresenta una delle tante scuse che si mette davanti per il mancato indirizzo della bicicletta o di qualsiasi altra cosa l'età non deve essere una discriminante negativa ma la puoi vedere in un'accezione positiva ti porta sicuramente io rispetto al mio primo viaggio rispetto a un ventenne noi siamo più maturi siamo più maturi siamo più equilibrati ecco però non ti impedisce se tu hai la mentalità giusta ce l'avrai sia a vent'anni sia a settantacinque anni stanno certo ok quindi tanta passione tanta voglia di viaggiare però entriamo proprio a gamba tesa sul vostro viaggio allora lampedusa caponord circa 8 mila chilometri partenza ad inizio giugno 6 giugno 6 giugno 6 giugno da lampedusa partiamo esatto perché da lampedusa beh lampedusa perché perché è il come diceva domenico il punto più a sud d'italia per raggiungere il punto più a nord d'europa e lampedusa è stato in passato ma è ancora oggi basta guardare i giornali un posto dove sbarcano delle persone che hanno bisogno di aiuto e cercheremo di anche noi nel nostro picco di aiutarli in questo modo una sorta di diciamo anche messaggio da questo messaggio sì un messaggio perché voi tra l'altro oltre al messaggio del clima mi spieghi prima domenico che avete il messaggio del volontariato va bene il messaggio del volontariato perché entrambi siamo siamo impegnati in alcune assoluzioni di volontariato per cui ci piace anche l'idea di poter fare da cassa di risonanza con un viaggio di tale tale grandezza a cassa di risonanza tutti quei volontari che giornalmente perdono una delle cose più importanti che abbiamo nella vita che è il tempo per per aiutare altre persone poi c'è anche la variabile che secondo me è anche importante di come cambiano le prospettive a secondo dove si nasce per molti il miraggio è la porta d'europa di lampedusa per noi che siamo nati da un'altra parte il miraggio è raggiungere il globo di caponordi in bicicletta cioè sono due posti che noi raggiungeremo però con delle prospettive diverse e soprattutto con degli impatti diversi sulle nostre vite e nel frattempo che le che raggiungerete che unirete questi due punti mi dicevi anche che andrete a conoscere e raccontare tante realtà di volontariato che incontrerete sul tante realtà di volontariato che che andremo ad incontrare questo io l'ho toccato con mano nel mio scorso viaggio che è stato anche un viaggio abbastanza importante io sono stato supportato dall'associazione misericordia che un'associazione di volontariato presente in tutta italia io ho conosciuto tantissimi volontari in tutta italia nel mio piccolo insieme alla misericordia portavo il vestito dell'atmo che l'associazione donatori mitollo osseo siamo riusciti a sensibilizzare sulla donazione del mitollo osseo e questo forse è la parte più importante di quelli di tutti i viaggi che io fa ok quindi ci sono tanti tanti messaggi tanta carina al fuoco però chi sta guardando questo video oltre a questi messaggi interessata al percorso qual è diciamo l'itinerario dopo lampedusa dove magari chiunque può anche contattarvi magari si è ben accetto anzi io già dico che se state vedendo questo video su youtube trovate in descrizione tutti i link per contattare pietro e domenico se lo state vedendo su bike channel spero che ci sia adesso la grafica insomma dove vi possono contattare ci possono cercare sui social mi trovano ma quindi qual è l'ampedusa dunque l'ampedusa abbiamo si è capito che è una partenza simbolica perché abbiamo il mare in mezzo e poi sono anche pochi chilometri non tantissimi no e si no la pietusa sono 7 8 chilometri tutta lunghezza ma non si può pedalare sul mare purtroppo non ancora non riusciamo a fare quello e quindi partiremo da portempedocle il 7 di giugno perché la partenza simbolica è il 6 giugno però per raggiungere portempedocle abbiamo bisogno di una nave parte la sera comunque arriveremo la mattina su portempedocle dove faremo portempedocle pozzallo che siamo sui circa 190 chilometri all'incirca poi da pozzallo taormina taormina andremo su torregrossa giusto parte mia parte sua perché io abito a pozzallo lui vive in provincia di messina abita in provincia di ragusa lui abita poi una volta finito lasciato il vostro territorio si segue l'adriatica giusto poi avremo si reggio calabria crotone la parte ionica dell'italia e dalla ionica faremo castellaneta a bari bari da bari poi tutta l'adriatica fino all'alpe adria che anche quella è una sorta di porta per superare le alpi esatto esatto si faremo ravenna dove abbiamo un appuntamento con con degli amici camperisti anche loro che vanno in bici e poi faremo il tervisio tervisio l'austria adesso l'austria l'austria noi il nostro percorso originale perché abbiamo iniziato un annetto fa studiarlo era la polonia attraversare la lituania lettonia estonia tallin ners in che puoi salire su fino al capo nord però ultimamente con le stabilità geopolitiche insomma quello che sta succedendo ok abbiamo optato un'altra strada che ancora fino a che non partiamo dalla fine pensiamo di salire dalla germania austria germania e da rimarca su svezia abbiamo il piano alternativo abbiamo il piano alternativo diciamo o da una parte o dall'altra comunque si sale comunque sì comunque sì l'obiettivo è quello arrivare sul capo nord come avete pianificato il percorso però perché sono tanti chilometri e dunque pianificato l'ha pianificato tutto domenico lui è il nostro pianificatore ok spero di non perderci perché sennò sarà come noi domenico dai qualche suggerimento a chi magari ci sta guardando cioè com'è che si fa pianificare un viaggio così lungo ma quando tu parti dalla cartina io parto io tutti i viaggi parto dalla direzione più o meno che vogliamo vogliamo seguire poi io credo che questa sia una cosa comune a tutti i cicloviaggiatori non vado nel nello specifico della strada alcuni partono con la strada devi girare nella sp22 io no bene o male mi segno le città principali che passano su quella direttrice e poi via via la sera prima cerchi ma anche perché su un viaggio di questo tu non saprai mai se ti chi si chiude una strada se c'è cattivo tempo se c'è per cui devi essere un viaggio in bicicletta e la per ritornare su su ciò che rappresenta è credo l'apoteosi della flessibilità cioè devi essere non puoi essere rigido in un viaggio in un soprattutto in un viaggio di 7500 km per cui devi essere pronto a trovare il piano alternativo per raggiungere sempre per percorrere sempre la tua direttrice che quella verso nord ora pietro diceva noi passeremo sicuramente a salisburgo a salisburgo perché la il punto finale dell'alpe adria che è una ciclovia bellissima su questo si dovrebbe fare un altro appuntato tu sei molto attento sul sul sulla presenza di ciclovie all'estero in italia noi veniamo da una zona che è sicuramente la peggiori in assoluto però diciamo diciamo che è un'altra si può fare si può scrivere un'enciclopedia e una volta raggiunta salisburgo lì decideremo in virtù di ciò che sta succedendo russi e ucraina come muoverci e andare step by step avanti sempre verso anche perché comunque voi avete 8 giorni perché voi lavorate appunto queste sono le vostre ferie e avete anche una bella tabella di marcia 200 km al giorno circa 200 km al giorno per questi 8000 km diciamo a chi magari viaggia comunque spieghiamo anche che voi avrete comunque un camper a seguito abbiamo un supporto sì per poter ottimizzare nei tempi certo sì perché se no sarebbe veramente difficile e complesso abbiamo pensato di prendere un camper per poterci ospitare magari l'orario di cena o anziché per dormire senza andare a cercare un b&b o un ristorante per poter mangiare fermarci perdere più tempo siccome è un viaggio lungo e allora abbiamo abbiamo pensato di questo che questo camper potesse aiutarci nel corso sì anche perché comunque attenzione un camper è comunque a differenza di altri grandi viaggi fatti da persone sicuramente da altre persone più organizzate un camper che fa da staff ma che sono volontari anche loro e ci forniranno un supporto importantissimo per cui noi nell'ottica del cicloturista cicloturista classico facciamo tutto noi da non abbiamo addetto stampa non abbiamo c'è gente che viaggia sicuramente alla possibilità di ci sono dei grandi viaggiatori anche hanno fanno dei viaggi importanti però una cosa è molto alla molto alla paesana maniera una cosa è tutto organizzato non è la vostra professione noi facciamo due lavori diversi due lavori che ci hanno anzi ti svelo un retroscena che da dove è nato questo viaggio ok perché noi facciamo un lavoro simile siamo vicini di lavoro ok eravamo nella stessa location di lavoro tutti e due appassionati di ciclismo abbiamo detto facciamo un viaggio importante e avevamo puntato a fare la Nord Cape 4000 wow poi ci siamo guardati abbiamo detto scusa ma che senso ha arrivare a Capo Nord e partire da Rovereto se siamo tutti e due siciliani cioè buttiamoci giù questi altri mille chilometri e partiamo dalla Sicilia e poi da là ha preso forma per come l'abbiamo raccontato prima ok quindi diciamo che c'è stato anche lo step by step per creare questo viaggio ma io voglio entrare ancora un po' più nella pratica ecco ditemi un po' che bici utilizzerete e magari anche qualche accorgimento che avete preso sulle vostre bici insomma ho capito che Domenico è il meno tecnico di tutti diciamo perché noi viaggiatori in realtà dovete sapere che siamo proprio alla buona non siamo meccanici sì se si chiede di riparare una camera d'aria lo facciamo però poco forse però qui esce il background di Pietro perché Pietro ha fatto ciclismo anche a livelli importanti cioè io sono ciclista della Domenica ok chiaro invece lui è sicuramente più tecnico ecco partiamo subito camera d'aria o tubeless? no camera d'aria secondo me è molto più tecnica cioè nel senso migliore farete asfalto comunque forse perché forse perché sono vecchietto quindi ok ok ma farete strade asfaltate questo diciamo faremo strade asfaltate però no non abbiamo non abbiamo delle gravel purtroppo per motivi di tempo non siamo riusciti a trovare delle gravel noi abbiamo iniziato a cercare un sei mesi fa e queste gravel introvabili perché come le provavamo noi erano lo sappiamo che il mercato della bici adesso si no è diventata una cosa è in crisi totale si si in crisi perché anche oggi sono andato a visitare un negozio di biciclette qua a Milano eh disastro erano in crisi anche loro se non sapevano quindi bici da corsa classica allora sì bici da corsa classica in carbonio e con avremo due ruote di rispetto ogni bicicletta forse ci porteremo una bicicletta in più tipo muletto per in caso dovesse spaccare l'irriparabile e e questo diciamo che la ruota la possiamo cambiare riusciamo a cambiare la catena riusciamo a regolare pure qualche 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 tu riesci mettiamo le mani avanti riusciamo 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 perché comunque partiamo in due siamo in due e siamo due biciclette e un camper quindi siamo in quattro però due che pedalano due persone che comunque riusciranno dal punto di vista meccanico tu hai qualche dubbio oppure so paura cioè che cosa potrebbe succedere secondo te ma io guarda l'unica cosa che potrebbe 8.000 km c'è chi li fa in un'intera vita anche i bici da corsa sì sicuramente è il classico no che usa la bici ogni weekend si fa al 100 km 8.000 c'è la stressiamo tanto questa bici o no? la stressiamo sicuramente sì però 8.000 km l'unica cosa che potrei pensare che potrebbe succedere è una catena che si rompe che comunque ci sta che ci sta sicuramente avremo delle catene nuove alla partenza e ci porteremo delle catene di rispetto comunque è anche vero che viaggerete in Europa quindi non siete in mezzo di nulla diciamo anche questo siamo in Europa sì però noi in una precedente passeggiata in bicicletta in Sicilia ma Sicilia dai non è la stessa cosa scherzo non abbiamo trovato nulla no 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 ci siamo trovati in mezzo al nulla siete andati all'estremo del vostro piano no vabbè ci sta ci siamo trovati in mezzo al nulla e l'abbiamo forato cercavamo un negozietto niente l'abbiamo trovato dopo i 100 km vabbè comunque l'abbiamo trovato l'importante era l'importante è averlo trovato e ho comprato il mezzo di il pezzo di rispetto e i cali però a disco e allora io sono molto tradizionale io ho i freni V-brake normali con le pattine esatto lui invece è una bicicletta un po' più moderna con i freni a disco qual era la tua bici? una Cinelli super superstar ma una Cinelli perché poi alla fine come diceva Pietro dovevamo cambiare le biciclette siamo arrivati forse nella pianificazione un po' lunga abbiamo avuto troppo ottimismo nel trovare le biciclette e poi alla fine siamo la bicicletta una delle cose importanti sicuramente su questi lunghi viaggi è che la bicicletta sia della tua misura nel senso anche perché sennò diventa diventa complicata c'è mal di schiena questa biomeccanica l'avete fatta? ci camminiamo in bicicletta e vedi noi usiamo la biomeccanica antica nel senso che se se non ti fa male niente vuol dire che la bicicletta è perfetta ok se ti inizio a fare male schiena vuol dire che la bicicletta ma anche perché adesso l'avete già testata per più di 600 km adesso abbiamo fatto un test in assetto ma anche per capire determinate dinamiche che possono essere dinamiche voglio dire stupide però come organizzarsi sul camper come darsi l'appuntamento sul camper ma sai anche banalmente di voi non siete da soli cioè siete due persone ok quindi anche riuscire a stare insieme è una no siamo quattro siamo quattro persone quattro persone ecco già questa è una variabile importante per chi io ho viaggiato sempre da solo la variabile è riuscire a riuscire ad avere la giustamente tutte e quattro il lavoro di squadra non è scontato no no è anche vero però che comunque tutte e quattro che siamo uniti dalla da un obiettivo importante perché poi alla fine voglio dire io non voglio sottolineare questo ci tengo per una questione mia da Lampedusa a Caponorti in bicicletta che io conosca non è mai arrivato nessuno per cui credo che sia un viaggio veramente importante per cui riuscire a superare delle difficoltà delle difficoltà che sicuramente ci saranno ma ci sono in ogni viaggio in bicicletta delle difficoltà avere la giusta mentalità per superarlo anche all'interno di quella discussione dei quattro in camper è una variabile importante che noi speriamo di superare assolutamente c'è qualcuno che russa speriamo di no oppure speriamo tutte e quattro così nessuno lo sarà può prendere con l'altro va bene così ragazzi allora secondo me state facendo veramente qualcosa di interessante noi vi seguiremo sui social però prima di lasciarci la domanda che faccio a tutti questa la faccio per perché io voglio rubare idee a altri viaggiatori rubare qualche trucchettino però ditemi ciascuno due cose che non potranno mancare il vostro viaggio una deve costare meno di un euro l'altra meno di 100 euro vai Pietro stupiscimi meno di un euro allora io sono un appassionato di bandane ok ci sta e quindi nel mio bagaglio avrò diverse bandane che costano intelligente perché sole oppure larietta sai anche il sudore anziché farlo scendere rimane sulla bandana è bagnata e meno di 100 euro? meno di 100 euro è una collanina che ho comprato con dei soldi regalato regalatemi da un mio parente quindi per te ha un significato particolare beh insomma portare da Lampedusa a Caponord è una bella soddisfazione vai Domenico il viaggiatore più navigato? a me un euro meno di un euro io parto quasi però non sono sicuro di stare sotto l'euro però parto quasi sempre con un bracciale diverso lo inizio a mettere e si vede che ne ho qualcuno quindi ti fa venire la bronzatura del bracciale si vede che ne ho qualcuno però poi alla fine anche questo qui che è un po' quello che diceva Pietro prima riguardo alla collanina ogni bracciale ti ricorda un viaggio e comunque è un modo di ricordare un'esperienza bella passata per cui diciamo alcuni sono regali alcuni sono comprati prima di partire ce n'è una a cui tengo particolarmente che è quello di con le tartarughe di Lampedusa che adesso cercherò cercherò di replicare quello di 100 euro va in una cosa un po' più seria diciamo che in un sette da cicloturismo non deve mai mancare un kit di pronto soccorso anche se basilare e un kit di riparazione anche se basilare cioè voglio dire in questo se tu investi anche in in un qualcosa di sicuro in qualcosa di che ti può allevare qualche problema qui ritorniamo alla discussione che ti facevo prima il cicloviaggiatore deve essere noi tutti siamo un po' incoscienti però noi tutti dobbiamo essere un po' equilibrati perché devi riuscire a prevedere il problema che può insorgere e avere ciò con cui risolverlo per cui un kit di pronto soccorso basilare anche questa volta siamo agevolati perché abbiamo il camper lo buttiamo sul camper cioè ci possiamo portare il mezzo ospedale speriamo che non serva però dovete essere pronti a tutto ma come tutti i viaggiatori anche poi alla fine tante volte tutti ti trovi in determinati situazioni che sei da solo o che sei in compagnia in una strada in una strada difficile in una strada per cui avere l'equilibrio anche a livello di programmazione noi partiremo il 6 giugno credo che ognuno di noi già si sta mettendo le cose da parte che serviranno per la partenza con la paura di dimenticarle perché poi dimentichi la batteria dimentichi il cavo via via li metti sotto e te li trovi insomma allora siete pronti a partire noi siamo pronti a seguirvi grazie e quindi vi ricordo ancora una volta che trovate in descrizione questo video se lo state guardando su youtube tutti i contatti di Domenico e di Pietro per Bike for Climate questa iniziativa molto molto interessante sono curioso di seguirvi anche perché non spoilero troppo però non dico altro ci potremmo dare appuntamento non dico altro non voglio dire troppo perché è ancora un po' segreta la situazione non so quando uscirà questo video però niente grazie ragazzi grazie a te grazie a voi grazie a te grazie a tutti buon spazio e speriamo sempre più cicloturisti in mezzo alla strada speriamo ragazzi buona strada a voi quindi vi voglio ringraziare anche una volta Bike Channel vi ricordo che trovate la versione podcast di questa chiacchierata anche su Spotify su iTunes sempre in descrizione su YouTube niente ragazzi noi ci vediamo sempre qui su questo canale e alle prossime avventure su un conventional travellers un caro saluto a Domenico e Pietro in bocca al lupo ragazzi ciao 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 ciao